Siamo qui con Paolo Pettazzoni, vicepresidente Anfao e presidente del gruppo lenti di Anfao. Ed è proprio in questa veste che le chiediamo subito di farci un quadro di lo stato di salute. Come sta il mercato delle lenti in Italia? Il mercato delle lenti in Italia intanto riflette quello che è l'andamento generale del mercato italiano. Il mercato delle lenti in particolare è un mercato che anche nel 2011 si è dimostrato sostanzialmente stabile nei confronti dell'anno precedente sia in termini di volumi, di quantità vendute sia in termini di fatturato. Un risultato quindi che consideriamo non negativissimo obiettivamente vista la situazione, la cornice globale delle economiche italiane in questo momento. Bene, quindi uno stato del mercato chiaro, meno chiaro forse il futuro. Quali sono le leve su cui lavorare per avere prospettive migliori rispetto al passato? La sua opinione? Ma certamente, intanto questo 2012 è chiaro che sarà un anno particolare, è veramente complicato fare delle previsioni vista la situazione generale economica italiana, ma non solo italiana e europea. Chiaramente ci proviamo lo stesso, vogliamo essere ottimisti, ecco, quindi nel senso che pensiamo che comunque l'Italia sia in grado di superare questo momento di difficoltà e che quindi anche i consumatori italiani continuino, diciamo, quello che è il loro trend abituale in termini di acquisti. Chiaro che in questa situazione economica generale, quali le leve da utilizzare per cercare di muovere il mercato sono un po' sempre le solite innovazioni di prodotto, questo è fondamentale, quindi ricerca di prodotti qualitativamente superiori con un'attenzione anche al prezzo. È evidente che occorre anche questo, quindi offrire al mercato prodotti innovativi, moderni, a prezzi competitivi, con un rapporto quindi qualità-prezzo che il consumatore giudichi vantaggioso e che quindi lo stimoli all'acquisto. Bene, quindi ringraziamo Paolo Petazzoni, vicepresidente Anfao e presidente del gruppo Lenti di Anfao per questa panoramica sullo stato del mercato e delle prospettive. Tra pochi giorni abbiamo detto c'è il Mido, ci rivediamo tutti quanti a Mido in bocca al lupo. Grazie, grazie a voi.